La famiglia Antinori ha acquistato la tenuta nel 1985, anno in cui veniva celebrato il 600esimo anniversario dell'attività vinicola della famiglia. La storia della tenuta è però molto più antica, infatti i vigneti sono stati accuditi fin dal medioevo dai monaci vallombrosiani che vinificavano nel monastero di Pepoli sotto la giurisdizione della vicina Badia a Bassignano. L'azienda possiede 27 ettari posti a un'altitudine tra i 350 e i 400 metri piantumati con 7.000 piante di olivi di un'età di 40 anni da cui produce l'olio Peppoli da cultivar frantoio, moraiolo e lecino dal colore cristallino verde brillante. Il naso è intenso con riconoscimento di pomodoro fresco, punto in bocca rimane a lungo ed è contraddistinto da toni amaricanti e peperoncino verde. Le tenute del Chianti Classico dei Marchesi Antinori si trovano a San Casciano Val di Pesa. Scrivendo al suo amico Francesco Vettori nella lettera Io mi sto, Niccolò Machiavelli raccontava delle sue giornate a San Casciano Val di Pesa passate in compagnia dei taglialegna nel bosco o a ingaglioffirsi all'osteria per poi ritornare di sera nel suo studio presso l'albergaccio a ragionare di politica e forse a scrivere il principe. Quando nel 1512 a Firenze ritornarono i Medici, Machiavelli si rifugiò nei suoi possedimenti a Sant'Andrea in Percussina, frazione di San Casciano. Noto già in epoca romana come piccola località lungo la via Cassia, il luogo dove sorge San Casciano fu una stazione di posta o mansione eretto in cima alla discesa per Firenze al decimo miglio. Dal 1100 divenne dominio dei vescovi fiorentini che esercitarono la loro signoria attraverso un potestà. Il potere episcopale ebbe fine nel 1272, anno in cui San Casciano passò sotto il controllo diretto di Firenze. I numerosi fortilizi realizzati furono trasformati successivamente in ville fattorie quando ci si orientò verso il potenziamento delle attività agricole. Per quanto riguarda l'enogastronomia, il marsolino, formaggio di pecora fresco, è una produzione assolutamente artigianale che ha una lunga storia dietro di sé. Consumato appena un mese dopo la messa a forma, è ottimo accompagnato con le fave alias baccelli in maggio, il periodo migliore per gustarne la dolcezza in bocca. San Casciano è anche zona di produzione del chianti classico di OCG che prevede, secondo disciplinare, una percentuale minima dell'80% di Sangiovese, il vitigno a bacca rossa molto diffuso nella zona. Si può accompagnare con una percentuale massima del 20% ad altri vitigni autoctoni a bacca rossa, quali il canaiolo e il colorino. da assaporare in un bel bicchiere chianti, rosso, zuccherato, la pesca cotogna del poggio, che è coltivata da più di un secolo su tutte le colline del chianti. Zuccherina al palato, presenta buccia gialla, sfumata verso il rosso arancio, e polpa gialla dura, tendente al rosso nell'area adiacente al nocciolo.